Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di prealpina.it. Subito la cronaca. Aggredì violentemente la compagna riducendola in uno stato semi-vegetativo dal quale non si è più ripresa e, per evitare guai, sostenne che la donna, all'epoca 75enne, fosse stata rapinata e picchiata durante una vacanza a Napoli. È l'accusa che ha portato in carcere il 41enne Attilio Iodice, originario del Casertano ma residente in provincia di Como, dove l'hanno raggiunto e arrestato gli uomini delle squadre mobili di Caserta e Varese. L'uomo è accusato di lesioni gravissime. I fatti risalgono a luglio 2017, ma emersero solo un mese dopo, quando la donna fu ricoverata in un ospedale Umbro dopo essere stata accolta da convulsioni, mentre era in viaggio con Iodice verso Varese, di ritorno da un soggiorno in Campania. La vittima presentava ecchimosi al volto e l'uomo spiegò ai sanitari che la compagna alcuni giorni prima era rimasta vittima di un'aggressione a scopo di rapina a Napoli. Nonostante le cure mediche, la 75enne cadde in uno stato semivegetativo nel quale versa tuttora, a causa del quale non ha più potuto parlare né dunque descrivere quanto le era capitato. Le indagini partirono ugualmente. I poliziotti delle questure di Caserta e Varese hanno parlato con i familiari della donna, con i conoscenti del 41enne, scoprendo che Iodice era solito fidanzarsi con donne più anziane e facoltose, alle quali chiedeva costantemente soldi. Nove anni ad Antonio Rosati, otto a Enzo Montemuro, ex presidente ed ex amministratore delegato del Varese 1910. E questa la sentenza emessa oggi, martedì 21 settembre, dal Tribunale di Milano. I due ex dirigenti della società Biancorossa erano accusati di aver messo in piedi un'associazione a delinquere finalizzata all'evasione di decine di milioni di IVA. Altri due imputati sono stati condannati a otto anni, mentre l'ex calciatore Bruno Limido, al quale sono state riconosciute le attenuanti generiche, ha subito una condanna a un anno e un mese. Il Tribunale ha inoltre disposto la confisca di beni riconducibili agli imputati per oltre 47 milioni di euro, tutte respinte invece le istanze risarcitorie delle parti civili. Tutti i dettagli su prealpina.it e sulla prealpina in edicola domani, disponibile anche sui supporti digitali. Questa mattina a Legnano è stato inaugurato il monumento ai caduti della Polizia di Stato. Alla cerimonia è intervenuto anche il questore di Milano Giuseppe Petronzi. Vediamo l'intervista realizzata da Luca Nazari con le immagini di Walter Todaro dell'agenzia Publifoto. È stato inaugurato questa mattina a Legnano il monumento dedicato ai caduti della Polizia di Stato. L'iniziativa è stata voluta dall'Associazione Nazionale Polizia di Stato di Legnano e all'inaugurazione è intervenuto anche il questore di Milano Giuseppe Petronzi. Dottor Petronzi, perché è importante avere anche a Legnano un monumento dedicato ai caduti della Polizia di Stato? Ma diciamo sono importanti i simboli. Oggi quindi non è importante Legnano ma è importantissimo Legnano. Mi scusi questa provocazione. È importante avere memoria, è importante condividere la memoria facendo passare la memoria da un concetto individuale ad un concetto collettivo. In questo momento stiamo collettivizzando il concetto di memoria con questa magnifica comunità che ci ha accolto. Passiamo ora all'emergenza Covid con i dati diffusi poco fa da Regione Lombardia. Sono 472 i nuovi positivi nella nostra regione con un indice di positività in calo allo 0,7% frutto di 61.000 tamponi. 9 i decessi costanti i ricoveri, meno 1 nelle terapie intensive più 2 negli altri reparti. Si segnale il balzo della provincia di Varese che dopo gli zero contagi di ieri sale a quota 104 superata solo dai 132 di Milano. E per concludere lo sport con il conto alla rovescia in vista dell'edizione numero 100 della Tre Valli Varesine, la classica del ciclismo che quest'anno partirà da Bustarsizio. La corsa organizzata dalla società ciclistica Alfredo Binda si svolgerà tra due settimane, martedì 5 ottobre. Oggi è stato svelato il tracciato. Dopo il via in piazza Duca d'Aosta previsto alle 12, circuito cittadino di 12 km seguito da un tratto in linea di 30 km per raggiungere il capoluogo. Nel cuore della città giardino inizierà un circuito da 13 km che sarà ripetuto 8 volte, ultimi due giri con passaggi a calcinate del pesce, morosolo e casciago e conclusione sempre in via Sacco di fronte al municipio di Varese. Tanti vig attesi tra le 24 formazioni al via. E con questo è tutto, vi diamo appuntamento a domani e vi auguriamo una buona serata.